Buongiorno, la situazione è questa. Positivo, tre dosi. Positivo, una dose. Positivo, una dose. Positivo, due dosi. Positivo, due dosi. Due dosi. Poi. È bastato davvero poco perché il video divenisse virale. Nel filmato, poi rimosso dai social, ma una volta inoltrato su WhatsApp diventato inarrestabile, un farmacista di Viareggio mostra i vari tamponi rapidi e i risultati effettuati in una giornata, arrivando ad affermare che il 92% delle positività emerse sarebbero relative a persone vaccinate contro il virus con doppia o addirittura tripla dose. Un video per il quale si è mossa la stessa ASL, Toscana Nord-Ovest, che ha segnalato la vicenda sia all'ordine dei farmacisti che alla regione toscana, chiedendo provvedimenti. Il video, come ovvio, ha diviso in due il popolo del web. Dai Novavax, che non hanno lesinato l'odio al farmacista, fino a chi invece, affidandosi a quanto sostengono gli organi sanitari ufficiali, ha giudicato il messaggio lanciato fuorviante. È noto, infatti, che il vaccino anti-covid protegge da effetti gravi e riduce l'eventualità di ricoveri in terapia intensiva. La variante Omicron, prevalente nei contagi sia in Toscana che in tutta Italia, sta provocando in chi è vaccinato sintomi lievi, qualche dolore, mal di testa, raffreddore e poche linee di febbre. Il vaccino, spiegano gli esperti, non impedisce il contagio, ma rende il sistema immunitario efficiente contro l'agente infettante. Se uno vaccinato entra in contatto con il virus, non ha modo di riconoscerlo e di combatterlo in modo efficace subito, quindi la carica viare rimane alta e permette un contagio più elevato.